Ben trovati dalla redazione giornalistica di News24.city. San Marco in Lami, sagguato in Puglia, l'addio ai due contadini. Grande folla ai funerali, qualcuno grida vittime, innocenti. Trani, accoltelamento in via Ciardi, ventottenne pregiudicato in gravi condizioni. Accaduto nella serata di venerdì attorno alle 22.30 sul posto 118 e polizia. Gallipoli, vacanze, irregolare, un affitto su due controlli straordinari della Guardia di Finanza da inizio luglio, 240 al giorno. Particolare attenzione su Gallipoli. Bari, armi e droga in casa nel quartiere Carrassi, arrestato un 39enne barese. Operazione della polizia, condanna per direttissima a tre anni e otto mesi. Andrea Albero si spezza e cade su un'auto in via Montegrappe. Accaduto a causa del forte vento, nella vettura un'intera famiglia, solo tanto spavento. Italia Calcio Serie C, il ricorso del Rende riporta i gironi a 19 squadre. Sorteggiate solo le prime tre giornate del calendario, le altre il 24 agosto.